Gaudium undi, nomas tenacei, proclean sorel pariens parentem, da manu nasi, spero, peccatucis, Vittorio Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ispira le nostre azioni e conversazioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto affinché ogni nostra parola e attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Immacolata Sposa dello Spirito Santo, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, finito di spiegare il trattato della preghiera, entriamo nello studio della parte che riguarda propriamente la giustizia cristiana, ossia il trattato delle virtù e dei vizi. Quanto sia importante far risaltare agli occhi del cristiano la bellezza delle virtù e la deformità dei vizi, non c'è bisogno di spiegarlo. Basti dire soltanto una cosa, che la finalità di tutta la religione, nelle sue verità speculative e pratiche, non è altro che portare, condurre l'essere umano al perfezionamento morale, cioè a istillare nel suo cuore l'amore alla pratica delle virtù e la ripugnanza ai vizi e mediante la pratica costante dei precetti e dei consigli evangelici renderlo più possibile somigliante al modello di ogni perfezione, che è nostro Signore Gesù Cristo, uomo, Dio, alfa e omega, principio e fine della nostra salvezza. Cominciamo dunque oggi con il parlare in modo generico di alcune nozioni che riguardano la virtù in generale appunto. E poi in seguito, nelle prossime catechesi, prenderemo una per una le singole virtù, le virtù teologali e le virtù morali, per imparare a conoscerle e quindi a praticarle, conformando ad esse tutta la nostra vita. Quindi oggi vedremo in particolare in cosa consiste la virtù in genere, di quante specie sia la virtù e l'eccellenza e la necessità delle virtù teologali, che vedremo cosa sono. Ma cos'è la virtù in genere? Se osserviamo un poco le nostre azioni in rapporto alla loro moralità, ci accorgiamo subito che esse si possono raggruppare in tre categorie, cioè le azioni buone, le azioni cattive e le azioni indifferenti. Le azioni buone sono quelle che sono conformi alla legge santa di Dio e che, come tali, sono direttamente o indirettamente dirette verso Dio, cioè tendono a Dio. Le azioni cattive sono quelle contrarie alla legge divina, cioè sono i peccati, leggeri o gravi, interni o esterni, questo non importa. Sono comunque azioni che ci allontanano da Dio. Le azioni indifferenti, invece, sono quelle che per se stesse non sono né contrarie né conformi alla legge di Dio, che quindi non tendono per se stesse né al bene né al male, né a Dio né al diavolo, come per esempio il mangiare, il bere, il dormire, il camminare, lavorare e cose simili. Questo però in linea teorica, perché nella pratica, invece, anche le azioni per se stesse indifferenti, a seconda che si compiano con un fine buono o un fine cattivo, possono rivestire una moralità buona o cattiva. Possiamo dire, dunque, che tutti i nostri atti finiscono per appartenere a queste due categorie, atti buoni o atti cattivi. Ebbene, in base a queste premesse elementari è facile di determinare la nozione generica di virtù e vizio. La virtù non è altro che una inclinazione costante dell'animo che ci porta a fare atti buoni. Il vizio, invece, è una inclinazione costante dell'animo che ci porta a fare atti cattivi. Questa inclinazione abituale ce la procuriamo noi mediante la ripetizione frequente degli atti medesimi, la quale fa sì che ne acquistiamo una certa facilità o familiarità che aumenta sempre più in noi la propensione a compierli. È un'abitudine. È un'abitudine. La virtù è l'abitudine a compiere atti buoni. Il vizio è l'abitudine a compiere atti cattivi. È praticamente, appunto, un processo medesimo che si verifica nell'acquisto di qualunque abito morale. Gli abiti morali sono queste attitudini che acquistiamo per fare qualcosa. Per esempio, la pratica di un'arte, l'acquisizione di una scienza, l'apprendimento di una certa professione. Per acquistare l'abito di un'arte, cioè l'attitudine di un'arte, di una scienza, di una professione, oltre alle capacità e alle attitudini naturali, è necessaria la pratica, è necessario l'esercizio. A forza di leggere si acquista la facilità e l'abito di leggere. Quindi si leggerà più veloce, con più attenzione. A forza di suonare si acquista l'abito del suono. A forza di esercitare un mestiere se ne acquista la familiarità e la pratica. Così, nel campo morale, a forza di esercitare atti buoni, si acquista la propensione al bene, la facilità al bene. E questa facilità al bene si chiama virtù. Nell'esercizio, invece, frequente degli atti cattivi, si acquista la propensione al male, l'attitudine a compiere quegli atti malvagi. E questa attitudine, questa abitudine, si chiama vizio. La virtù, dunque, è una disposizione abituale e costante a fare il bene. Definiamola però con più esattezza. La virtù è una buona qualità dell'animo, per la quale siamo inclini a compiere il bene con facilità, con prontezza e volentieri. Notiamo bene queste tre qualità. Facilità, prontezza e volentieri, perché sono inseparabili dalla virtù stessa. La virtù, infatti, ci fa compiere il bene con facilità, perché ci fa superare senza difficoltà gli ostacoli che vi si oppongono. Con prontezza, perché appena il bene è conosciuto, ci spinge subito a volerlo e ad attuarlo. E volentieri, perché essendo il bene l'oggetto della virtù, ce lo fa intraprendere con gioia e con vivo trasporto. Quindi, la virtù ci fa compiere il bene con facilità. Chi non conosce le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano, purtroppo, nell'esercizio delle opere buone, questi ostacoli li portiamo dentro di noi e nel centro della stessa nostra natura, dove si annidano i germi di tutte le passioni più disordinate e tumultuose che ne sono la causa principale. È il fomite del peccato che ci portiamo dentro a motivo del disordine della nostra natura ferita dal peccato originale, che ci viene tolto con il battesimo, ma le cui conseguenze permangono. E questa è appunto una conseguenza. Ora, se l'essere umano vuol riuscire a operare il bene, deve resistere a questi avversari interiori, al fomite del peccato, alle passioni disordinate, e combattere con vigore per reprimerli queste forze. Ma ciò non potrà fare con facilità se la naturale tendenza al bene e la sua buona volontà non saranno state già confermate, rafforzate, fortificate nella lotta degli abiti virtuosi contrari con un uso lungo e con una pratica assidua dei loro atti. Allora, soltanto questa pratica del bene, passata divenuta abitudine, diventerà come una seconda natura, buona e retta, che senza sforzo alcuno emetterà i suoi atti quasi spontaneamente, come per un bisogno interno ed una inclinazione potente, capace di sorpassare qualunque ostacolo e difficoltà, a forza di praticare quegli atti buoni, divengono facili e non facciamo più fatica a contraddire quel fomite del peccato che ci portiamo dentro, no, diventa quasi automatico. La virtù quindi ci fa compiere il bene anche con prontezza. Chi senza virtù si trova alle prese con il nemico nelle lotte spirituali sembra quel soldato novellino in berbe che senza alcuna pratica delle armi e senza esercizio delle arti militari si trova sul campo di battaglia assalito dall'avversario fino a tanto che sta lì a vedere come deve, come imparare a utilizzare le armi o il metodo da tenere per caricarla o per nascondersi o per mimetizzarsi l'avversario gli è già addosso e con tutta la buona volontà che ha di difendersi, comunque sia purtroppo è chiamato a essere ucciso, a soccombere. colui invece che possiede già l'esperienza, l'esercizio lungo del maneggio delle armi spirituali che cioè è rivestito dei buoni abiti che si chiamano virtù è pronto a parare ogni colpo, a difendersi dall'assalto e con tutte le probabilità a riuscire vincitore. Ma non solo da virtù ci fa compiere gli atti buoni con facilità e con prontezza ma ce ne dà anche la gioia, il diletto, ci li fa fare volentieri, c'è una dilettazione nel compiere il bene. A volte si rimane quasi stupiti a leggere certe vite dei santi dove questi affrontavano gli atti più eroici e ripugnanti alla natura umana ma buoni con gioia, con gaudio, con un diletto ineffabile e a volte siamo tentati quasi di giudicare questi racconti come pie invenzioni o esagerazioni degli storici ma non è così. Non pretendiamo di misurare i santi con la nostra misura noi che siamo mediocri, che siamo scarsi nell'esercizio delle virtù e che quando compiamo un atto buono non ne sentiamo la gioia ma ne sentiamo piuttosto il peso e la molestia siamo tentati di non ammettere che si possano esercitare da altri con piacere quegli atti che noi che noi compiamo 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 con peso eppure è così appunto quando la virtù è radicata come lo è nelle anime dei santi il fare l'azione buona da una gioia ineffabile che il mondo non conosce allora l'atto buono che a noi torna così gravoso perché non ci è ancora divenuto connaturale la privazione che tanto costa all'anima nostra che è gretta e meschina diventa una cosa naturalissima a quelle anime generose che con il lungo esercizio ne hanno già contratto una abitudine inveterata diventa anzi un vero bisogno del loro cuore amante uno sforzo necessario del loro ardore virtuoso e delle loro aspirazioni fortissime verso tutto ciò che è sacrificio e abnegazione ecco che cosa è e che cosa fa la virtù ecco perché gli stessi pagani ne avevano un concetto altissimo racconta Plutarco nelle sue sentenze che una volta chiesto ad un filosofo che aveva di nome Carislao quale fosse il popolo da lui giudicato migliore rispose quello nel quale i cittadini gareggiano per l'acquisto delle virtù come la scienza fa l'uomo dotto così la virtù fa l'uomo buono senza la virtù uno potrà essere illustre ricco, potente, istruito, colto ma non buono degno di venerazione e di amore la virtù è quella che ci avvicina a Dio che è l'essere infinitamente buono la pienezza e la sorgente infinita di ogni santità ma di quante specie è la virtù? beh, noi la distinguiamo anzitutto in virtù naturale e virtù soprannaturale è naturale se aspira se tende a un bene naturale a un bene mondano è soprannaturale invece se aspira a un bene del cielo la virtù naturale si acquista tutta dall'uomo con la ripetizione degli atti buoni la virtù soprannaturale invece è in origine un dono gratuito di Dio in quanto egli stesso ne infonde il germe nell'anima quando veniamo battezzati seme che tuttavia l'uomo deve poi coltivare e sviluppare in sé con la frequenza degli atti relativi ad esso di più la virtù naturale merita per sé una ricompensa appunto naturale perché è finalizzata a un bene naturale perché i suoi frutti sono frutti per fare un'analogia con la natura appunto la natura è intesa come alberi sono frutti di un albero selvatico assai diversi per quantità e dolcezza da quelli dell'albero innestato la virtù soprannaturale invece è sempre meritevole di una ricompensa oltre il naturale cioè ha per premio la gloria del paradiso da cui da ciò viene che la virtù naturale può trovarsi anche nell'uomo pagano mentre la virtù soprannaturale è propria solamente dell'uomo cristiano noi qui non ci fermeremo a parlare delle virtù naturali il che non appartiene alla materia che al catechismo che stiamo trattando ma invece tratteremo solo delle virtù proprie del cristiano delle virtù cioè che conducono l'uomo a dio e che sono appunto quelle soprannaturali queste sono dette anche virtù infuse perché come abbiamo detto non possiamo acquistarle da soli da noi stessi ma vengono infuse da dio stesso nell'anima nostra con la grazia santificante nel santo battesimo e a noi non resta altro che esercitarle rafforzarle renderle più vigorose e perfette per non ucciderle per non mortificare il dono che dio ci ha fatto queste virtù soprannaturali si dividono in due altre categorie secondo l'oggetto a cui tendono cioè ci sono le virtù teologali e le virtù morali le virtù teologali si riferiscono direttamente a dio cioè hanno dio come oggetto principale e immediato e queste sono le tre virtù teologali la fede, la speranza e la carità le virtù morali invece tendono a regolare i nostri comportamenti nel modo che più piace a dio e hanno per oggetto l'adempimento di qualche dovere morale che ci è stato imposto da dio e sono diverse sono tante ma si possono ridurre tutte a quattro fondamentali dette pertanto che sono come i cardini su cui le altre virtù morali appunto ruotano e queste sono appunto dette le virtù cardinali e sono la prudenza, la giustizia, la temperanza e la fortezza ora cominciamo la spiegazione delle tre virtù teologali e ne vediamo subito l'eccellenza la necessità e come conseguenza logica l'obbligo di fare, di compiere gli atti che ad esse si riferiscono l'eccellenza anzitutto delle tre virtù teologali la fede, la speranza e la carità si desume dall'oggetto verso cui esse ci fanno tendere e questo è dio a differenza di tutte le altre virtù esse infatti ci fanno tendere a dio nelle nostre operazioni e ci uniscono in qualche modo a lui con l'unico vincolo di questa vita infatti finché siamo su questa terra noi non possiamo vedere dio faccia a faccia però possiamo aspirare ad unirci a lui per mezzo della fede credendo le verità che egli ci ha rivelate per mezzo della speranza desiderando di vederlo in paradiso e di essere pienamente felici nell'unione a lui e nel conseguimento di ciò che egli ci ha promesso e per mezzo della carità amandolo con tutto il cuore ed eseguendone fedelmente i precetti finché siamo pellegrini viatori in questo mondo nessun altro vincolo al di fuori di questo può stringerci a dio di più le virtù teologali avendo per oggetto immediato dio e facendoci tendere direttamente a lui più e meglio di tutte le altre virtù sono atte a promuovere il nostro perfezionamento intellettuale e morale di fatti la fede ci mette in possesso di un patrimonio di verità che illuminano il nostro intelletto lo nobilitano gli aprono dinanzi orizzonti sconfinati lo innalzano fino all'anticamera della sapienza divina e alla verità sostanziale che è dio la speranza solleva la nostra volontà da tutti i beni perituri della terra per non farle desiderare altro che il possesso del bene sommo e infinito che la fede le indica la carità poi purifica in modo speciale il nostro cuore per renderlo degna abitazione di dio sommo ed eterno amore togliete la fede e avrete l'uomo preda del dubbio dell'incertezza dell'ignoranza togliete la speranza e l'uomo non conoscerà che i beni fragili della terra per il cui acquisto calpesterà ogni diritto e ogni legge divina e umana togliete la carità infine ed avrete l'uomo schiavo di passioni disonoranti che lo faranno misero e infelice ecco dove sta tutta la preziosità e l'eccellenza di queste virtù però non solo esse sono le virtù più eccellenti ma sono anche le più necessarie senza fede senza speranza senza carità non è possibile salvarsi il possesso di queste virtù è condizione indispensabile per raggiungere il paradiso e sapete perché? per il semplice motivo che la gloria del paradiso ossia la vita eterna non è che il compimento la consumazione di quanto si possedeva prima in radice spieghiamoci meglio la visione di Dio che si gode in paradiso non è che fede consumata ossia il compimento ultimo della nostra fede per cui è impossibile che veda Dio chi non ebbe fede in Lui il possesso di Dio che si ha in paradiso non è che speranza consumata ossia il compimento perfetto della nostra speranza per cui nessuno potrà possedere questo bene sommo se mai lo sperò l'amore di Dio che forma l'essenza stessa del paradiso non è altro che carità consumata solo questa resta ossia il compimento di quell'amore che abbiamo avuto in germe qui sulla terra per cui anche qui chi non l'ha avuto nella vita presente non potrà averlo più perfetto nella vita futura da ciò vediamo l'importanza essenziale che hanno le tre virtù teologali nell'opera della nostra salvezza e quindi la loro assoluta necessità ma si noti tuttavia come abbiamo già detto che a questo scopo non basta che le virtù teologali siano state infuse una volta da Dio nell'anima nostra è necessario che restino in noi che crescano sempre più che vengano coltivate e diventino operose e perciò bisogna coltivarle con amore ed esercitarle frequentemente ma in che modo si esercitano e quando è che si ha l'obbligo di esercitarle facendo gli atti relativi compiendone gli atti relativi la fede si esercita ogni volta che si aderisce pienamente alla dottrina di Gesù e si piega l'intelletto alle verità da Lui rivelate cioè quando facciamo un atto di fede quando con tutto il cuore con tutto l'intelletto diciamo io credo Signore anche contrariamente all'evidenza io credo ogni volta che guardiamo il Santissimo Sacramento e diciamo Signore io credo che Tu sei qui presente stiamo facendo un atto di fede la speranza si esercita con qualunque preghiera che si innalzi a Dio sia mentale sia vocale la carità con ogni affetto cioè con ogni atto di amore indirizzato verso Dio abbiamo l'obbligo stretto di fare atti di fede speranza e carità spesse volte nella vita se vogliamo tenere d'este in noi queste virtù ma più particolarmente e più precisamente lo abbiamo appena aggiunto l'uso di ragione per confermare quanto i nostri padrini hanno dichiarato e promesso in nome nostro quando siamo stati battezzati e per rivolgere a Dio com'è di dovere i primi pensieri della nostra mente i primi affetti del nostro cuore dobbiamo esercitare queste virtù quando siamo assaliti da qualche tentazione contraria ad una di queste virtù per ribatterla e soffocarla fin dal suo nascere i dubbi contro la fede richiedono un atto di fede contrario immediato e poi via signore ma sei veramente presente? credo io credo si deve necessariamente strettamente esercitarle quando si deve soddisfare qualche dovere cristiano e particolarmente quando interrogati bisogna fare una sincera e ampia confessione dei nostri principi e della nostra fede che il rispetto umano che ci fa vergognare di professare pubblicamente la nostra fede quando ne veniamo interrogati è qualcosa di terribile Gesù dice chi si vergogna di me davanti agli uomini io mi vergognerò di lui davanti al padre mio che è nei cieli e finalmente quando dobbiamo fare atti di fede speranza e carità quando è necessario strettamente necessario nel momento della nostra morte e qui parliamoci un po' chiaramente in che cosa come credete sarà possibile una vera buona morte forse nel partire da questo mondo muniti dai sacramenti assistiti dal sacerdote accompagnati dalle preghiere dalle benedizioni della chiesa tutte cose belle importanti ma che sono aiuti e mezzi per ben morire ma nulla più la buona la santa morte è riposta essenzialmente nel passare all'altra vita con l'impronta sull'anima delle tre virtù teologali se avremo vive nel cuore queste virtù anche fossimo destinati a morire in un luogo deserto privi di ogni assistenza spirituale si farà una morte preziosa al cospetto del Signore mentre senza la fede senza la speranza e senza la carità saranno inutili anche i sacramenti inutile l'assistenza l'assistenza del sacerdote inutili tutte le preghiere della Santa Madre Chiesa perché? perché saremo impermeabili saremo impermeabili a questi aiuti impariamo dunque cari fratelli e sorelle ad apprezzare degnamente e a coltivare con il massimo impegno nell'anima nostra queste tre virtù teologali che sono il fondamento di tutte le altre e in cui è riposto il segreto della nostra salvezza esercitiamole con atti frequenti che sollevino la nostra mente il nostro cuore fino a Dio e ci uniscano a Lui nostro principio e nostro fine supremo non passi giorno cari fratelli e sorelle senza che la fede la speranza e la carità scendano a santificare e impreziosire i nostri affetti i nostri pensieri le nostre opere e a stamparci nell'animo sempre più vivo il carattere di figli di Dio ed ereti del paradiso una volta un pittore ha rappresentato le virtù teologali in un quadro e le ha fatte tutte e tre con sembianze di donna la fede vestita di abito azzurro e con una croce in mano la speranza vestita di abito verde con un ancora ai piedi e la carità vestita d'abito bianco con un cuore ardente nel petto ecco davvero questa sia un'immagine da imprimerci nel cuore per comprenderle bene perché perché in effetti la fede vestita d'azzurro come il cielo che è azzurro ci fa guardare al cielo ci fa guardare al cielo e con la croce in mano perché perché è fondata sull'insegnamento di Gesù Cristo crocifisso la speranza vestita di verde come la primavera in cui tutto rinasce tutto si risveglia e che ci fa sperare i frutti che vedremo in estate con un ancora ai piedi cioè l'ancora che ci aiuta a mantenere la stabilità nei momenti di tempesta nei momenti in cui le passioni ci spingono alla disperazione è la carità vestita di bianco come come la luce la luce che illumina i beati del paradiso dove Dio amore è tutto e in tutti con questo cuore ardente che con i suoi palpiti esprime l'amore costante fervido che dobbiamo a Dio questa immagine ci rimanga impressa nella mente perché ci rivela con pochi tratti non solo l'essenza ma anche la preziosità la necessità la bellezza divina di queste tre virtù che a preferenza di tutte le altre hanno ricevuto da Dio la missione di guidarci al cielo diceva San Bernardo che le vere ricchezze non sono i beni di questo mondo ma le virtù che la coscienza porta in sé e che la renderanno per sempre felice questo auguro a me e a tutti voi gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Immacolata Sposa dello Spirito Santo prega per noi il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Ave Maria